Negli episodi precedenti, la cellula tipo arrennata va riuscire a sopravvivere fino alla fine? Scopritelo nel nuovo episodio di... AAAAAAAA! E vabbè, allora... Tu piccolo coso, sarai la mia prima vittima. Perfetto. L'ha mangiata tutto in un solo porcone. Posso mangiare anche voi? Mangio anche te? Mangio anche te? Figlio di burodonna, mangio anche te? No, te non mangio, no, non fa niente, non fa niente. Ma che cazzo? Ma che vuoi? Ma sto coso piccolino? Un altro bernacchio. Allora... Snurf! 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 Ok, via. Sono riuscito a scappare. Ma perché tutti hanno queste cose ultra fighe e io no? AAU! Non mi mordere il sederino. Nessuno mi morde il sederino, va bene? Ma perché muoio? Perché? No, no, no. Muoio, muoio. E non ho neanche cominciato a farmi mettere almeno la mano sul mouse. E non lo so. Non voglio chiamare proprio nessun partner. Non voglio mangiare questo tizio. Vieni qua, bellissima. Fatti mangiare. Che cosa figa quello. Mannaggia ancora questi cosi piccolini. Uh, posso procedere sulla terra. Mangia questo stronzo. E l'hai fatto. Non l'ho detto. Ok. Uh, sì, procediamo sulla terra. Allora, questa cronologia mostra la storia delle azioni compiute durante la vita come cellula. Hai acquisito un tratto che ti ha attribuito la mia abilità esclusiva. Allora. Originare. Poi sono andato di qua. Ah, ok. Sono andato prettamente verso la carnivora. Eh, vabbè. Vai, carnivora. Sì, voglio carnivora. Va bene, carnivora. Vai. Possiamo andare? Sì. Cellula di alluminio. Completa la fase cellula a livello difficile. Yeah. Adesso. Uh, posso mettergli le gambe? Allora, però aspetta. Così non mi piace. Non puoi andare sulla terra così. No, no, no. Allora. Ti metto delle gambe. Molto fighe. Uh, che gambe fighe. Che hai, è vero. Però le corna adesso diventa uno. E lo metti qua. Anzi, aspetta. Posso proprio venderlo. Ti vendo questa robaccia che non serve. Allora. No, no, così. No, no, così. Vai, dritto. Mettiti. Oh, no, non così. Oh, che fegata. Mmh. Interessante. Allora, aspetta. Fermo. Fermo. Voglio la cosa più lunga. Non posso. Allora, aspetta. Questo qua. Vabbè. Anzi, aspetta le gambe. Mettile. Mettiamole un attimo qua. Allora, posso allungare? Ok. Vai lungo, lungo, lungo. Vai un po' più avanti. Sì, perché voglio avere una creatura lunga. Serpentosa. Eeeh, con la coda arricciata. No! No, 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 no. Vai con la coda arricciolosa. Tipo scorpione. Mannaccia la miseria. Allora. No. No. Sopra. Ecco qua. Che fegato! Oddio, è stupendo. Come si fa a... Uh. Che bello. Come si fa a ingrandire? Come si fa a ingrandire? Vedo qua un po' più chiatto. Non si può. Vabbè. Allora, la... No, è brutto così. Qui va bene. Però gli occhi... Un po' più. No. Uh, un solo occhio. Sulla coda. Uh, doppio occhio sulla coda. No, è stupido. Uh, sulle ginocchia. Eh. Interessante. No, dai. Allora. Facciamo un iocchio. Un ciclope. La bocca è un po' più sotto. Però... La voglio alzata. Ecco qua. Perfetto. Anzi, aspetta. Un po' più sopra. No, un po' più sopra. Ecco qua. Tu invece... Qua. Però... Guardando di qua. Un po' più dietro. Boh. Penso che vada bene così. Posso farlo più grande? No. Allora. Cos'altro posso aggiungere? No, non mi interessa. Non posso aggiungere altro roba. No, penso che questi punti mi li conservo e vediamo poi per cosa usarli. Proviamo se posso mettere qualche nuovo tipo di manto. Uh, sì! Squamoso. Nah. Questa robaccia. Nah. Non mi piace. Uh, questo. Però voglio colorarlo come dico io, però. Ho detto due volte, però è vabbè. Eh, no. Che schifezza è mai questa. Come faccio a cambiare il viola? Non lo voglio, viola. No, queste macchie... No, 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 non le voglio. Manto, manto, manto. Allora. Ok. Uh, sfigato. Potrebbe essere un'idea. Mmm. No, i dettagli, chi se ne frega adesso. Prima devo vedere il manto. Allora. Abbiamo questo? No. Ah, pois! No, è orrendo. Allora. Mmm. Facciamoli bianchi. Meglio bianchi. Però lo faccio a strisce. Allora, queste strisce... Queste strisce... Queste strisce... Oppure queste. E più o meno sono... La stessa cosa. Bah. Vada per questo... Esserino qua. Che figo! Oh, nuota! Sa anche nuotare. Uh! Dunque... Perché è quella roba? C'è l'estruttore. Uh, è un drago. Una specie di drago. Uh, anche quello. Ah, mi sta facendo vedere come si sono evolute le altre specie. Che cazzo era l'ultimo? Oh, sono uscito! Ma esce solo la mia coda! Ma no, che cazzo! Dovevi uscire con la testa, no? Con la coda! Mi, mi, mi! Che cosa? Mi, 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 mi! Oh! Quanti ce ne sono? No! Tutti cosettini! Ah, carini! È l'alba di un nuovo giorno! E per te l'inizio di un nuovo, bizzarro e un meraviglioso mondo! L'aria ti riempie i polmone mentre allunghi gli arti nella tua nuova casa. La terraferma! L'evoluzione della specie ha avuto inizio. Uh! Eccoci sulla terraferma! Ora sei una creatura circondata nel nido dai tuoi simili! Ora dovrai evolverti incontrando le altre specie del pianeta e ottenendo punti DNA! Ah, solo così riempirei la barra dei progressi! Diamo un'occhiata! Uh, perché no? Questa è la barra che indica i tuoi progressi! Uh, riempila stabilendo relazioni con le altre specie o causandone l'estinzione! Ora vediamo la tua prima missione! Uh! Sei un carnivore! Dai la caccia a una preda per mangiarla! Per mangiare! Trova una nuova parte per far evolvere la tua creatura! Mm! Qui puoi vedere le tue missioni! In questo caso devi procurarti del cibo! Essenziale per la sopravvivenza! Vediamo di imparare come trovarlo! Beh, vado in giro! Ah, ok! Posso camminare con Wast! Uh, che figata! Corre molto veloce! Oh, andiamo! Uh, posso mangiare! Ah l'ha mangiato Ah ricorda che i carnimori devono mangiare solo carne E gli erbiboli sono frutta Ue quella cos'è quella cosa luminosa Tutotototototototototototototototot Che cos'è Vedi cos'è Idiota Wow Che cos'è Hai trovato una nuova parte Immagina quante cose eczionali potresti trovare Sugli scheletri e creature più grandi Oh che figata Richiamo di accoppiamento Clicca sul pulsante richiamo di accoppiamento Per trovare il tuo partner E accedere al creatore di creature Creature creator Qui puoi modificare il tuo aspetto e aggiungere le parti Che hai trovato nel corso del gioco Ok Che cos'è questo? Parlo Che cos'è? E beh? Non hai un bersaglio Ah devo anche avere un bersaglio con cui cantare Ah atteggiamento bellico Morso Ok andiamo a fare un atteggiamento bellico a qualcuno Oh tu vuoi un atteggiamento? Che schifezza è quella E questo chi è? E Marsanzio Hai incontrato una nuova specie Pensi di fartela amica o nemica Scegli il tuo aggiornamento E preparati a cantare un ringhiare al tuo nuovo vicino L'approccio indica la tua tendenza ad aggredire o essere socievole con altre creature Prima di interagire Clicca sul pulsante verde per socializzare O sul pulsante rosso per aggredire Poi utilizzi i pulsanti delle abilità Mmm Hai acquisito l'abilità speciale per aver completato la fase cellula Clicca questo pulsante per usarla Oh ruggito furioso Aspetta ma vogliono attaccarmi? No io voglio cantare Il sole Canta Devo cantare Canta Canta Perché non canta? Voglio cantare Il sole mio Che devo fare? Deja vu Scorvi qualcosa che è creato In un'altra partita Ma che cazzo Non so Non ha più pari idea di come funzioni La 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 Come faccio? E vabbè Limitiamoci a mangiarla Mangia 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 Vai puoi farcela Vai Io confido in te Vai 5 4 7 Vai Vai su Devi attaccare più forte Bello Vai vai e mangia Perfetto Grande l'ho mangiato Ben fatto Le spoglie vanno ai vincitori L'evoluzione di un essere più astuto E del cervello più grande è vicina Oh che figata Oh salta Salta bello Voglio provare anche ad attaccare 30 di vita Col cacchio Belloccio Ma come sei belloccio No col cazzo Via 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 Ciao belloccio Via 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 Allora Allora Mangia qualcosa O torna al nido Per curarti E il tizio che ho Ammazzato Ah non l'ho mangiato Mangia 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 Buono Buono Mangia Su Sto mangiando La mia salute Com'è la mia salute Adesso Adesso Ah Devo ammazzare 5 Belloccio Scusatemi Se con questa strana espressione Ma E sono abbastanza Oh eccolo cos'è Aspettate Titti poi mangerò voi E questo cos'è Oh Con le pet Le clipette Oh 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 Le clipette E bellissime Allora Questo ha 13 di vita Questo 10 Ok Attacchiamo questo Vai 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 Se ti muovi Oh boi attacca questa Dovrei sopravvivere O almeno spero Vai vai attacca Se qualcosa ci diamo alla fuga veloce Ok Mi sa che devo darmi alla fuga veloce Tra 3 Due Fuga veloce Fuga veloce, 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 veloce Fuga veloce E' bellissimi, bellissimi, bellissimi Paratemi il sedere Mentre io, oh, con le cuoricini Che vuoi fare, bella Aspetta, bella zappa zacca Lo faremo dopo Prima devo curare il mio sedere Mi sto curando il sedere Ok, va bene, facciamo bambini Mamma mia, queste donne di oggi Sempre, papini, bambini, bambini, bambini E che diamine? E' bello il procedimento Però cacchio, bambini, bambini, bambini E adesso fa l'uovo Fa vedere che hai fatto Sì, l'uovo Scusi, io se vorrei essere un mammifero E non lo so Allora, creator di creatura No, modalità Beh, sì, va bene Posso mettermi alla prova Allora, togliamo questa robaccia Che non serve a nulla E aggiungiamo questa robaccia Così è un aspetto molto più Così è un aspetto molto Ah, non si attacca Devo attaccarlo qua No Allora aspettiamo un attimo Tu mettiti da qualche altra parte Perché non posso Sono un idiota Pensavo fosse una bocca Cedio, più bello Allora Morso Questo è un morso di livello 2 Livello 2 Sono tutti livelli 2 Uh, d'orca Vediamo Uh, che fegata Grande o piccola No, così direi che va bene Lunga Uh, lunga Così sembra un alien No, no Non troppo grande Uh, che fegata Sì, mi piace No, no Due no Aspetta, aspetta Aspetta Facciamo questa cosa No Fermo così No, no Così va bene No, no Volevo allungare Non posso Ok, non posso Allora adesso spostiamo le gambe qui E ne aggiungiamo altre E queste come si chiamano E come si chiamano Me lo ricordo Aspetta Questi sono braccia Ok, eccole qua Uh, che carino Solo che con l'occhio sul sedere Non è che Eh Mettiamo un bell'occhione qua Uh, che bello Che carino che è Allora Dov'è il mio manto super figo? Ah, non lo so Forse non c'è Perché è molto più facile Da così Allora, ok Non posso neanche più fare Ah, ecco qua Il mio manto super figo Uh Che figo che sono Balla per me Grecio No, ho detto Balla Oh Gli piace Pareto Ho detto di ballare Che figlio di buona donna Capriola Indica là Un là Sei sicuro? Dove? 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 Ah, là Davvero Salta il saltello Prima di fare Berbagnoccio Avevo già fatto Due creature Ed ecco Perché belloccio Mi sembrava Di averlo già visto Da qualche parte Belloccio È una delle creature Che ho fatto Così per prova Ed ecco Abbastanza carino Guardate che carino Anche se Ennesimo Mi piace di più Guardate Ennesimo È Fighissimo Avevo anche Dimenticato Di averle Salvate Queste prove Però sono stupende Spero davvero Di non incontrare Ennesimo Durante Il gameplay Perché Penso che sarà Un po' difficile Da ammazzare Cazzo Ha delle ali Ha un corno Ha una doppia bocca Ed è Abbastanza figo Quindi Per questo episodio È tutto Questo è solo Un piccolo Pezzettino speciale Perché Volevo dirvi Che belloccio È un'opera mia E non del gioco Perché effettivamente Durante il gioco È uscito Deja vu Io ho detto Che è sta robaccia E poi Dopo Durante l'editing Mi sono ricordato Che belloccio L'ho creato io E un'altra cosa È che Adesso Vedete Tutto bene Però In questo episodio In quello precedente Le riprese Erano state fatte Un po' male Perché Fraps ha fatto Dei casini E quindi La parte sottostante Di un video Non andava bene La parte sottostante Del video Non si vedeva Quindi la barra Dove c'era l'evoluzione Non si vedeva Eccetera Però non preoccupatevi Come vedete Da questo pezzone Dal prossimo video Si potrà vedere Anche perfettamente La barra sotto Vi ringrazio Per aver seguito Questo video E ci vediamo Nel prossimo Ciao ciao Oh e quello cos'è Ah no Oh scusa 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 No 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 Ma io fa la stessa cosa durata Non c'è più No 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 Grazie.